Lezione 2 Postumi di una sbornia La birra è il motivo per cui mi alzo ogni pomeriggio. In alcune culture, una serata di bevute pesanti e un'attività sociale regolare, gli effetti negativi subiti il mattino seguente sono accettati come parte inevitabile della vita. Il costo economico dell'assenza correlata all'alcol è spesso causato dai laboratori che manifestano sintomi di sbornia. Questo è il termine usato per descrivere la raccolta dei sintomi che si verificano nei bevitori il giorno successivo a una sessione di bevute pesanti, una volta che l'etanolo è stato eliminato dal sangue, figura 2. Anche quando una sbornia non è abbastanza grave da causare l'assenza, può compromettere gravemente la capacità di una persona di funzionare efficacemente sul posto di lavoro. L'impatto economico delle malattie alcol correlate è dominato da questi deficit di produttività a breve termine, con malattie croniche correlate all'alcol che rappresentano solo una piccola parte di questo costo. L'elenco seguente mostra i sintomi di sbornia più segnalati, con il più comune per primo. Mal di testa Scarso senso di benessere Diarrea Anoressia Mancanza di appetito Tremore Mani tremanti Affaticamento Nausea I sintomi variano enormemente tra le persone e gli episodi, rendendo difficile la ricerca su questa condizione, anche senza considerare le questioni etiche di far ammalare deliberatamente le persone. È stata proposta una varietà di meccanismi fisiologici che potrebbero ragionevolmente spiegare il verificarsi di postumi di una sbornia, ma senza molte prove a sostegno. Considereremo brevemente ciascuna delle possibilità. 2.1 Disturbi fisici Disidratazione In che modo il consumo di alcol può provocare disidratazione? Sebbene i livelli di vasopressina tornino alla normalità durante i postumi di una sbornia, una volta che l'etanolo non è più presente nel sangue, può verificarsi un'ulteriore perdita di liquidi a causa di sudorazione, vomito e diarrea. I sintomi di disidratazione includono molti di quelli associati ai postumi di una sbornia, vertigini, stordimento, debolezza, sete, ecc. Disturbi gastrointestinali Ad alta concentrazione, l'etanolo danneggia le cellule al contatto e quindi può causare irritazione dello stomaco e del rivestimento intestinale con conseguente infiammazione. L'etanolo aumenta anche la produzione di acido gastrico e secrezioni intestinali e gli effetti collaterali di questi processi includono dolore addominale, nausea e vomito, tutti fattori che possono essere associati a postumi di una sbornia. Info aggiuntive L'azione antibatterica dell'etanolo L'etanolo può agire come disinfettante perché danneggia le cellule con cui è a contatto. È un disinfettante efficace e viene utilizzato al 70% volforza nei tamponi ospedalieri e nei laboratori per uccidere i batteri. Nei secoli precedenti, birre e sidri deboli venivano spesso prodotti udati come razione alla forza lavoro contadina ed erano la bevanda preferita. A causa dell'azione antibatterica dell'etanolo, erano più sicuri da bere rispetto all'acqua spesso contaminata. Basso livello di zucchero nel sangue Il livello di glucosio presente nel sangue viene mantenuto con cura per garantire che le cellule ricevano un rifornimento continuo di carburante per i processi metabolici. Il glucosio in eccesso dalla dieta viene immagazzinato nel fegato e rilasciato in modo attentamente regolato per mantenere il livello nella circolazione. L'etanolo consumato in grandi quantità interrompe questo equilibrio e questo può portare a bassi livelli di zucchero nel sangue poche ore dopo. Poiché il glucosio è la principale fonte di energia per le cellule del cervello, questo potrebbe spiegare i sintomi della sbornia come affaticamento, debolezza e disturbi dell'umore. 2.2 Disturbi psicologici e del sonno La gravità dei sintomi della sbornia è stata anche associata a particolari tratti della personalità. Ad esempio, alcune ricerche hanno indicato che gli individui con tratti di personalità che li predispongono al rischio di alcolismo sperimentano sintomi di sbornia più gravi rispetto ad altre persone. Sebbene l'alcol agisca come sedativo, il sonno che induce può essere di qualità inferiore e di durata inferiore al normale. L'etanolo interferisce con l'azione dei neurotrasmettitori chiave, in particolare GABA e glutammato, provocando un effetto sedativo complessivo. Il corpo controbilancia questo modificando il numero di recettori GABA e glutammato presenti nelle sinapsi, aumentando il numero di recettori glutammato e diminuendo il numero di recettori GABA. L'etanolo viene rimosso in modo relativamente rapido dal corpo, ma occorre più tempo perché il numero di recettori torni alla normalità, lasciando il sistema nervoso in uno stato temporaneo sbilanciato e sovraeccitato. Risposte Quali sono i segni fisiologici associati all'astinenza da alcol? Poiché i sintomi della sbornia condividono molte delle caratteristiche dei sintomi di astinenza da alcol, una possibile interpretazione è che la sbornia possa essere una forma lieve di astinenza da alcol. 2.3 Fattori chimici Metaboliti dell'etanolo Il suggerimento che l'accumulo di acetaldeide sia coinvolto nei postumi di una sbornia è in gran parte dovuto all'osservazione che alte concentrazioni di acetaldeide nel sangue danno luogo a effetti tossici che assomigliano a postumi di una sbornia, pulso rapido, sudorazione, nausea, ecc. Risposte Perché l'acetaldeide si accumula nel corpo dopo aver bevuto molto? Tuttavia, nella maggior parte delle persone durante i postumi di una sbornia non vengono rilevate alte concentrazioni di acetaldeide nel sangue, quindi non ci sono prove dirette che l'acetaldeide sia la causa principale. Altre sostanze chimiche Studi hanno dimostrato che le bevande più pure, come la vodka e il gin, causano meno sintomi di sbornia rispetto alle bevande ricche di congeneri, whisky, brandy, vino rosso. I congeneri sono le sostanze chimiche che forniscono gusto, aroma e colore caratteristici. Tuttavia, l'etanolo puro può causare postumi di una sbornia, quindi i congeneri possono essere solo un fattore che contribuisce. Una sostanza chimica che è stata identificata come potenzialmente importante nei postumi di una sbornia è il metanolo. Il metanolo viene assorbito e metabolizzato con gli stessi meccanismi dell'etanolo, ma l'etanolo viene metabolizzato preferenzialmente quando sono presenti entrambe le sostanze. I livelli di metanolo nel sangue quindi rimangono alti dopo che i livelli di etanolo diminuiscono, forse spiegando l'inizio ritardato dei postumi di una sbornia, Jones, 1987. I prodotti della degradazione del metanolo sono la formaldeide e l'acido formico, entrambi molto tossici. Alte concentrazioni possono causare cecità e morte. Le bevande associate a un aumento dei sintomi della sbornia contengono alti livelli di metanolo, ad esempio brandy, whisky. L'avvelenamento da metanolo viene trattato somministrando grandi dosi di etanolo, il metanolo viene così metabolizzato più lentamente, prevenendo l'accumulo di formaldeide tossica e acido formico. Questo approccio potrebbe costituire la base per teorie secondo cui consumare più alcol è un modo per superare i postumi di una sbornia. Trattamenti postumi di una sbornia Ci sono numerosi trattamenti noti per alleviare i sintomi della sbornia, che vanno dal folclore aneddotico a costosi prodotti farmaceutici. I sintomi dei postumi di una sbornia diminuiscono con il tempo, ma variano ampiamente tra gli individui e le occasioni, quindi le prove dei rimedi sono di limitata affidabilità. Sebbene questi rimedi possano non essere stati soggetti a test scientifici sistematici, alcuni sono approcci ragionevoli basati su ciò che si intende sulla fisiologia dei postumi di una sbornia. Il consumo di alimenti contenenti lo zucchero fruttosio, come frutta o succhi di frutta, o cibi insipidi ricchi di carboidrati, può aiutare a contrastare i sintomi derivanti da un basso livello di zucchero nel sangue. È probabile che il sonno allevi i sintomi associati alla fatica. Bere abbondanti quantità di acqua riduce la disidratazione. I farmaci antinfiammatori, come l'aspirina, sono comunemente usati per alleviare i sintomi del mal di testa, ma c'è il rischio che dal momento che possono irritare il rivestimento intestinale possano aggravare i disturbi dello stomaco indotti dall'alcol. La caffeina è tradizionalmente ampiamente utilizzata e può contrastare i sintomi della fatica. Più alcol può alleviare lievi sintomi di astinenza e barra, o consentire al metanolo di eliminare il sistema senza produrre alte concentrazioni di formaldeide e acido formico. Tuttavia, qualsiasi sollievo immediato sarebbe oscurato dalla ripresa dell'intero processo. Approfondimento, capelli del cane Questa frase è usata per descrivere il consumo di una piccola bevanda alcolica per curare i postumi di una sbornia. L'espressione allude a un'antica credenza secondo cui un antidoto all'essere stati morsi da un cane pazzo fosse mettere sulla ferita dei peli bruciati dello stesso cane. La frase è usata anche in Ungheria cutia rapastosorevel tradotto come Puoi curare il morso del cane con la sua pelliccia. Le frasi per descrivere il concetto di bere per alleviare i sintomi della sbornia si trovano anche altrove, come il francese Rallumer Lasciudier, Riaccendi la caldaia, o il danese Reise Signor Veddet Trae, HVO Emaner Faradet, Dovresti alzati vicino all'albero dove sei caduto. Uno studio recente ha concluso che non esistono prove convincenti che suggeriscano che qualsiasi intervento complementare o convenzionale sia efficace per il trattamento o la prevenzione della sbornia da alcol e ha suggerito che un intervento efficace sarebbe rimasto sfuggente fino a quando la biologia sottostante non fosse stata meglio compresa, I postumi di una sbornia sono esperienze spiacevoli che interrompono la vita delle persone e possono compromettere la loro capacità di svolgere compiti come lavorare o guidare in modo efficace. Il modo più efficace per ridurre i sintomi della sbornia è evitare di bere quantità eccessive di alcol, in particolare bevande contenenti i più alti livelli di congeneri.